Magda Acherova Ragazzi, girati così vedono i numeri Numero 4 Magda Acherova e Fabio Rodolfi Numero 17 Blanca Iarascova e Alfio Raiti Numero 23 Federica Zambelli e Daniele Vaccari Numero 13 Claudia Rossi e Gianni Salvioli E questa è la prima batteria, ce ne sarà un'altra sempre di 5 Ok, prendete posto ragazzi, grazie Prendete posto Ok Listeria pregara Prendete posto Prendete posto Grazie! 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 Anche perché non si scivono! Ma loro ce la fanno! Bene! Seconda batteria! numero 20 Cristina Ghidini e Marco Pelati!